Piero Nap nato a Trieste il 9 ottobre del 1938. Nipote di illustri comandanti, nelle vene porta il mare. Il padre Bruno Stato, da comandante di Reggio Sommergibile, un eroe della Seconda Guerra Mondiale, decorato al velor militare. Sopravvissuto fortunosamente alle tristi vicende belliche, ha potuto trasmettere a Piero sin da piccolo, come ricorda anche il figlio Franco, la passione per il mare. Napp ha frequentato sin da bambino la soce Triestina della Vela, come allievo del grande Bruno Rossetti. Si è diplomato all'Istituto Tecnico Nautico Tommaso di Savoia Duca di Genova e diventato capitano di lungo corso. Da agonista ha vinto quattro campionati italiani sugli SNAIP, di cui tre a prua di Giorgio Brezic. Con Giorgetto, come chiamato in famiglia, hanno avuto l'onore di partecipare insieme da atleti azzurri d'Italia a un campionato europeo e a un mondiale. Al suo nome legata la vittoria della prima barcolana, nel 1968, con 51 imbarcazioni. Un'impresa rimasta scolpita nella sua memoria, che ha inaugurato la storia dei successi della regata più grande del mondo. Ancora innamorato del mare e dell'arte della vela, ha raccontato al Corriere della Sera lo spirito che accompagnì il battesimo di una manifestazione partita forse tra qualche perplessit ma che non avrebbe poi tardato a far breccia nel cuore della intera SIT. Nel 1969 non eravamo non più di una cinquantina di barche in mare. Non molti credevano nell'idea della societvellica barcola grignano ma si sbagliavano. Sarebbe diventato un evento. A bordo, insieme a lui, la moglie Marisa, Umberto Rizzi, Aldo Vidulic e un altro membro della societrestina della vela, Sergio Pugliese. Avevo vinto oggi altre regate, comunque ne fui felice. Era una giornata molto tranquilla, in partenza c'era un vento discreto che me in mano andato calando, ricorda. Il calare del vento ci ha messo un po' in difficolt, ma siamo riusciti comunque a vincere. Napp Gareggi e vinse a bordo di una Alpa 9, prodotto di un cantiere della Val Padana. Ho sempre molto apprezzato la formula della barcolana che permetteva, e che permette tutt'oggi, di premiare i regatanti in base al reale ordine d'arrivo a prescindere dalle compensazioni di rating. Cosa non può mancare per affrontare la regata? La passione, perce la vela natura, sport e determinazione. Certo, ammette, la barcolana attuale un mondo completamente diverso da quello da me vissuto, oggi impera il professionismo. L'augurio, in occasione dei cinquanta anni della regata, quello di continuare anche per il futuro a mantenere la storica formula che le permesso di diventare ci che oggi. Continuando ad affascinare anche i giovani, necessario fare leva sulla loro passione per il mare e sulla loro voglia di competere con spirito agonistico, spirito che dovrebbe animare qualsiasi sportivo.